Durante una banale lite colpisce ripetutamente al capo la moglie con una mazzola e una tenaglia riducendole in fin di vita. È accaduta nella tarda serata di ieri a Conversano dove i carabinieri su segnalazione pervenuta dal personale del 118 sono intervenuti presso l'abitazione di un'anziana coppia a seguito di una lite. Giunti sul posto i militari hanno dovuto buttare giù la porta per poter entrare in casa e hanno trovato un anziano signore che stava in vendo con una tenaglia contro il capo di sua moglie riversa per terra e esamina in una pozza di sangue. Disarmato ed indimediatamente bloccato il pensionato identificato in un incensurato di 78 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La vittima sua moglie di 65 anni dopo le prime cure è stata trasferita ad urgenza e ricoverata presso l'ospedale di Venere di Bari dove lotta tra la vita e la morte per le numerose ferite riportate alla testa. Dopo l'arresto l'anziano su disposizione della procura della Repubblica di Bari è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.